A1-11 Sempre in A11, sempre in direzione Pisa, incidente al chilometro 6 tra l'allacciamento con la 1 e Prato Est In Fipili verso Livorno, code a tratti per incidente al chilometro 6 e 500 tra Scandici e Ginestra Fiorentina E code a tratti per un veicolo fermo tra la Strassigna e Montelupo Fiorentino In direzione Firenze, un chilometro di coda per incidente tra Empoli Ovest ed Empoli Un chilometro di coda per lavori tra Empoli ed Empoli Est e rallentamenti tra Scandici e Firenze e Scandici Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti